Il fatto che la proprietaria, una donna sola di 81 anni, fosse in casa e dormisse nel suo letto non ha intimorito in nessun modo il ladro che poco dopo la mezzanotte si è introdotto in un appartamento al primo piano di via Siracusa a Lecce. L'anziano nel cuore della notte si è trovata davanti l'uomo incappucciato con un passamontagna che l'ha minacciata ed aggredita intimandole il silenzio. Era riuscito ad entrare dopo essersi arrampicato sul balcone e aver frantumato i vetri della finestra. Aveva cominciato a rovistare in giro per la casa alla ricerca di denaro e gioielli ma è stato costretto a dileguarsi a mani vuote, messo in fuga dalle urla dell'anziano nel frattempo uscita sul balcone per richiamare l'attenzione dei vicini e sono stati proprio loro ad allertare il 113. Gli agenti sono arrivati subito sul posto e dopo aver ascoltato il suo racconto hanno avviato le indagini. Ma non si è trattato dell'unico episodio sul quale la polizia sa ora indagando. Gli appartamenti dei liccesi, spesso vuoti nel periodo estivo, fanno gol a molti e spesso la tecnica dei ladri è quella di suonare il campanello per accertarsi della presenza o meno in casa dei proprietari. È proprio quello che stavano facendo due slave nelle prime ore del pomeriggio in azione nelle vie di San Ligorio. Gli arresti delle due rome effettuati nei giorni scorsi dalla squadra mobile hanno però messo in allerte i cittadini. La presenza sospetta delle due zingare non è passata inosservata e un residente ha allertato la polizia. Le due slave sono state bloccate in via Rapolla. Si tratta di una 22enne e di una 13enne residente in un campo Roma-Roma. La maggiorenne è in passato già arrestata. Entrambe nascondevano tra i vestiti dei grossi cacciavite usati per scassinare finestre e porte anche blindate. La minorenne non imputabile è stata affidata ad una comunità educativa. La maggiorenne è stata denunciata.